Ciao a tutti, sono Gianfranco Marini in questo supplemento di webinar, vorrei trattare un argomento che non ho avuto il tempo di trattare, riguardo all'aggiornamento. Abbiamo concluso questo corso e adesso però si tratta di prendere nelle proprie mani il proprio percorso di autoapprendimento in modalità appunto autonoma e partendo dalle cose che già sapevate, che avete poi imparato in questo corso, procedere oltre. Per farlo io uso la parola, l'espressione apprendistato formativo, formativo perché stiamo parlando di formazione, formazione in itinere, aggiornamento professionale eccetera, apprendistato perché questa è la modalità propria, secondo la mia opinione, per meglio riuscire a integrare le tecnologie digitali nella didattica. bene, in questo menu io vi farò vedere alcune di queste slide, cominciamo con questa EduPunk. EduPunk era un movimento che nasceva dalla reazione a quella che era l'introduzione di modelli commerciali dell'apprendimento compiuto negli Stati Uniti a partire almeno dall'età di Ronald Reagan e poi di Bush, padre e figlio. Un movimento nato e morto in quegli anni che si batteva però per una concezione etica dell'apprendimento, dove l'etica dell'apprendimento era basata sul do it yourself, sul fai da te. Parlo qui dell'apprendimento come aggiornamento formativo compiuto dai docenti. Quindi il rifiuto della formazione istituzionale che viene a proposta dal Ministero su modelli commerciali per una formazione in cui ciascuno prendesse, come ho detto prima, nelle proprie mani la responsabilità del proprio percorso formativo di aggiornamento professionale e lo portasse avanti autonomamente in funzione delle proprie esigenze e delle esigenze dei propri alunni. Apprendere autonomamente secondo due direttrici fondamentalmente, pensiero critico e pensiero creativo. Tutto questo poi nasceva anche da una considerazione, una considerazione che ormai possiamo dare per scontata perché è una premessa su cui tutti sono d'accordo, e cioè soprattutto nel terreno in cui ci muoviamo, quello del digitale, quello del web, il paradigma didattico taylorista, o per meglio dire l'applicazione del paradigma taylorista e quindi della catena di montaggio alla didattica è totalmente superato. Il paradigma taylorista, ricordiamo, si basa su una rigida gerarchia che procede dall'alto verso il basso, sulla omologazione, cioè sulla proposizione di un modello di professionalità omologante, in cui tutti coloro che sono formati sono formati allo stesso modo, sulla serialità e la ripetitività, su criteri unicamente basati sulla efficienza in vista di un determinato scopo e sulla totale standardizzazione. Quindi già questo ci fa capire che siamo mille miglia lontani da quelle che sono le esigenze formative, educative. La metodologia era quella top down, broadcasting, cioè un unico centro di erogazione dei contenuti di apprendimento, diciamo così, nessun tipo di interattività dialogica, il tutto in un'autica proprietaria, cioè gli strumenti che vengono proposti sono tutti strumenti proprietari, software a pagamento e così via. La modalità era quella erogativa, si erogano dei contenuti precostituiti che conducono attraverso un percorso unilineare, uguale per tutti, è costituita una serie di step, di passaggi, a trasmettere questi contenuti precostituiti in modo da ottenere tutti quanti lo stesso tipo di competenze in uscita, diciamo così, è più un addestramento che una vera e propria formazione, come la si intende oggi, in termini di costruzione cooperativa delle conoscenze, in termini di sviluppo concreto di competenze, eccetera. A questo possiamo sostituire il paradigma dell'intelligenza collettiva, che non è affatto contrario al principio un po' anarchico della didattica del do it yourself, del fai da te, dell'edu punk, perché è vero che l'edu punk punta sull'autonomia e la libera iniziativa di ciascuno, per così dire, ma ciascuno poi deve essere in collaborazione e in cooperazione con tutti gli altri. Qui la logica è bottom up, si parte dal basso, dalle interazioni che stanno alla base e quindi da quelle che sono le concrete esigenze degli operatori, in questo caso degli insegnanti, ma anche degli studenti. L'ottica è quella comunitaria, cioè sviluppare comunità di pratica in cui ci si scambi le proprie esperienze e in cui ciascuno contribuisca secondo le proprie capacità. Il dialogo, quindi, è la co-costruzione del sapere. Un sapere aperto, basato sulle OER, cioè le risorse educative open, quindi aperte, libere, e sulla condivisione delle esperienze, in modo da sfruttare il meglio che gli altri ci offrono. Il modello è certamente non quello piramidale della gerarchia teluristica, il modello fordista-telurista, ma è quello reticolare. Qui ci sono due link di approfondimento. Quindi, che cosa vi posso suggerire? Di adottare l'approccio do it yourself, del fai-da-te, è però anche di integrarlo con un modo di procedere che sia basato sull'apprendistato formativo, su quella che io chiamo la bottega didattica, scherzosamente, che poi altro non è che il modello del copia-incolla, il modello detto in modo molto brutale e scherzoso, naturalmente, e cioè sviluppare quella che è una tendenza innata, per così dire, del carattere italiano, il classicismo-neoclassicismo italiano, l'emulazione. La creatività italiana sta proprio nell'assumere determinati modelli e poi nella capacità di calare questi modelli nella situazione concreta, adattandoli ad essa e in qualche modo ricreandoli in funzione delle proprie esigenze. Quindi, un'imitazione-emulazione che prevede sempre una valutazione dei risultati ottenuti per modificare il modello e procedere nuovamente in questo circolo virtuoso, in questo modello circolare che ci permette gradualmente di compiere il nostro percorso. Insomma, è un po' quello che viene definito l'apprendistato cognitivo. Apprendistato cognitivo, che nasce negli anni Ottanta, ad opera di alcuni studiosi, Alan Collins, John Brown e Susan Newman, e nasce perché per l'insoddisfazione nei confronti di quella che possiamo definire l'istruzione istituzionale formale, è nel tentativo di recuperare all'interno di questo ambito la ricchezza dell'apprendimento informale, tipico per esempio delle comunità di pratica o della bottega artigiana. La proposta dell'apprendistato cognitivo nasce, come dice il termine apprendistato, dal modello dell'antica bottega artigiana e nasce in un contesto teorico che è quello del costutivismo sociale di Vygotsky, in cui, valorizzando però che cosa rispetto alla mera pratica, alla praticoneria, al pasticciare senza criterio e senza cognizione. Aggiungendo, appunto, alla dimensione meramente pratica, la dimensione cognitiva e metacognitiva. Quindi una didattica delle competenze, dove competenze non vuole assolutamente dire il fare, ma il saper fare, che è un'altra cosa, che è, direbbe Hegel, la sintesi dialettica del mero agire e dell'astratto pensare. Si tratta quindi, come nelle comunità di pratica teorizzate da Wenger, di concettualizzare la pratica, riflettere sulla pratica di una pratica, per riflessa. Al di là di tutte queste definizioni, chiedo scusa, qual è il metodo dell'apprendistato cognitivo? Bene, io qui ho inserito quelle che sono le fasi principali, giusto per schematizzare, ma insomma va già bene quanto abbiamo visto nella slide precedente, e cioè assumere un modello, per esempio una buona pratica, imitarla, nel senso che abbiamo detto di adattarla la nostra situazione in modo creativo e critico, e poi valutare il risultato per ripercorrere il ciclo, modificando ciò che è opportunamente, ciò che non è andato bene, per esempio, o non ci ha comunque soddisfatti. Le fasi teorizzate da questi autori sono il modeling, cioè il modellamento, in questo caso il maestro illustra all'apprendista il compito, illustra l'apprendista la prestazione, illustra l'apprendista una tecnica, per esempio, quindi qui abbiamo la presenza, il maestro, e l'allievo, l'apprendista, che imita, guarda quello che fa il maestro, e lo imita, ma lo imita non nel senso che cerca di rifare come una scimmia le cose che fa il maestro, nel senso che cerca di capire, di ricavare un modello, uno schema comportamentale concettuale di azione, uno schema d'azione concettuale, che guidi la sua esperienza. Poi c'è il coaching, il coaching è la fase in cui l'apprendista agisce, ma non in modo autonomo, è seguito da un esperto che può intervenire, dare suggerimenti, fornire dei feedback, far notare delle criticità, suggerire dei metodi, eccetera, eccetera. E lo scaffolding, in questa fase il maestro esperto tende a non avere più nemmeno un rapporto diretto individualmente con l'allievo, ma a fornire un supporto al suo agire che è sempre più autonomo e che può avvenire sia individualmente che tramite il lavoro di gruppo, cioè collaborando insieme ad altri. La cosiddetta articolazione, articulation, prevede invece che gli apprendisti ormai quasi soli, insomma, riflettano anche a voce alta, commentando quello che fanno, dandosi suggerimenti, spiegando il loro modo di agire, per esempio come hanno impostato un'attività, perché hanno fatto una certa scelta e così via. E questo sfuma nella riflessione in cui l'apprendista paragona i risultati del suo operato con quelli del maestro, con quelli dei suoi colleghi, degli altri apprendisti, in cui si riflette su cosa è andato bene, su cosa non è andato bene, una sorta di valutazione. E infine l'esplorazione, in cui quello che è stato appreso viene proiettato su nuove situazioni, per affrontare nuove sfide, nuovi problemi, o per esempio insegnare ai colleghi quanto si è appreso e così via. Bene, questo era l'apprendistato cognitivo declinato in modo un po' schematico e più completo. Ma al di là della teoria, cosa intendevo dire? Intendevo dire che dobbiamo cercare dei buoni maestri e dei buoni modelli, dobbiamo poi, coaching scaffolding, con il supporto di una comunità, cioè di quella che è il network di relazioni e contatti che abbiamo, per esempio con altri docenti, chiedere quando abbiamo difficoltà dei suggerimenti o dei consigli e così via, per poi, come ho spiegato prima, andare ad applicare alla nostra situazione concreta, quindi sperimentare quello che abbiamo appreso, sempre avendo come riferimento il modello che abbiamo scelto, una buona pratica, per esempio, non so, un utilizzo che ci è piaciuto di un video didattico prodotto con l'applicazione Ypsilon, proviamo ad adattarlo. E poi appunto la fase finale, reflection and exploration, cioè la valutazione di quanto abbiamo fatto, magari anche coinvolgendo i nostri studenti, oppure coinvolgendo i colleghi e chiedendo loro suggerimenti o un confronto, oppure senza chiedere un confronto a nessuno, vedendo quello che fanno gli altri e confrontando con quello che fanno gli altri quello che abbiamo fatto noi, per vedere cosa può andar bene di quel che abbiamo fatto, cosa può andar male, cosa può essere migliorato, eccetera, eccetera. Quindi l'importante è che cos'è? È la cura dei contenuti, è l'intelligenza collettiva, l'importante è stabilire una rete di relazioni e connessioni, partecipare al dialogo, per così dire, al dialogo che si svolge in rete. E questo può venire in diversi modi, possiamo avere diversi riferimenti, possiamo seguire diversi maestri, per così dire. Per esempio, tanti docenti hanno il loro blog, hanno il loro canale YouTube, possiamo trovare video didattici, tutorial, guide, possiamo trovare lezioni, possiamo trovare tantissime risorse e materiali di ogni tipo, progetti, idee, eccetera, eccetera. Ci sono dei webinar bellissimi, per esempio, dei documentari e così via. Il suggerimento è quello di scegliere delle persone che hanno prodotto qualcosa di valido, che possiamo seguire, con cui possiamo magari anche interagire. Per esempio, qui, anche se insegno alla secondaria superiore, mi sono sempre interessato, delle scuole elementari, e come vedete, questi sono alcuni blog. Ecco, potremmo cominciare seguendo alcuni di questi blog. Io seguo sempre Maestro Roberto, lo seguo proprio quasi quotidianamente, innumerevoli sono le risorse che dà, basta cliccare, vedete, questo è il blog, adesso dovrebbe apparire, se tutto va bene, di Maestro Roberto, Roberto Sconocchini, e qui abbiamo probabilmente migliaia di, vedete, ecco, questo un lapbook sugli egizi, come realizzarlo. Poi abbiamo, non so, Paddle diventa pagamento, alcune alternative, come si viveva in Antica Roma, un video di Teded. Abbiamo una ricchezza sterminata di materiali, con tanti indici che ci permettono di trovare ciò che ci interessa, per esempio, per bambini, disegna e colora, oppure tempo libero, docenti, e così via. Abbiamo, come vedete, tante tante risorse. Bene, torniamo a noi, Maestralori, risorse didattiche, oppure abbiamo anche, ecco, risorse didattiche, che è un sito che a me piace molto, con un indice abbastanza chiaro, ed è un sito proprio dedicato agli insegnanti di scuola primaria, realizzato da un insegnante di scuola primaria. Oppure, non so, vi ho messo il link di questo tratto da Il Gomitolo, un altro blog, sono tutti i siti blog della scuola primaria, guardate quanti ce ne sono, sono tantissimi, quindi non abbiamo quell'imbarazzo della scelta, come si suol dire. Quindi, altri blog, ecco, questi sono dei canali generali, di YouTube, ovviamente, questo è il mio canale, questo è di Elisabetta Buono, di Luca Rania, ma ce ne sono tanti altri, c'è Marcello Meinero, c'è Paola Tascione, e così via. Ecco, possiamo seguire, ecco, risorse didattiche della scuola primaria, per esempio, scusate, esco perché c'è quello odioso, ecco, che è il canale YouTube di Angela, non mi ricordo come si chiama, Costantini, mi pare, e qui trovate lezioni, trovate video, tantissimo materiale. Abbiamo poi, se frugate un po' su YouTube, tanti altri canali, insomma, veramente grazie a Paladino, che realizza delle bellissime video lezioni, vere e proprie, su qualsiasi argomento, ecco, scuola media, infatti ho messo grazie a Paladino, Chiara Spalatro, la profe AF, Andrea Maiello, che è un collega che anche lui insegna alla scuola media, che fa dei bellissimi video tutorial estremamente brevi, non lunghi come i miei. Quindi, potete guardare molti di questi, come, per esempio, Jessica Redeghieri, loro antichi, si occupano di cose specifiche, producono soprattutto video tutorial, grazie a Paladino trovate sia video tutorial che video lezioni molto interessanti, vedete, per esempio, nei suoi video, ecco, strutture e funzioni dell'apparato digerente, i vulcani, tutorial di Canva, quindi la classificazione dei viventi, trovate un po' sia video didattici che video tutorial e così via. Poi, qui vi ho messo alcune riviste, rubriche, ce ne sono tante in rete, queste sono quelle che seguo io, potete, premio Bricks, sono articoli scritti da docenti su temi di attualità nel dibattito didattico, poi magari ogni numero, in genere i numeri sono tematici, quindi potete andare nel sito di Bricks, scusate, vedete il numero corrente del marzo 2018, potete frugare tra i numeri già usciti, adesso io clicco qui, vedete, fare didattica con Wikimedia, il digitale nell'alternanza scuola-lavoro, per carità, il digitale nelle CLIL, l'educazione alla cittadinanza, e qui ci sono tutti i numeri, come vedete, animatori digitali, ogni numero è dedicato a un argomento, e il taglio, siccome sono studiati da insegnanti, in genere non è accademico, ecco quello che voglio dire, poi alcune volte è anche un po' troppo accademico per i miei gusti, però insomma è una delle migliori riviste che vi sono sulla didattica. Passiamo adesso ad alcuni libri di pedagogia, ce ne sono una marea, e io vi mostro gli ultimi tre che ho letto con una certa attenzione, Silvano Tagliagambe, Un'idea di scuola, e Massimo Badaci per Un'idea di scuola, non a caso ho letto questi due perché una delle cose che mancano in questo continuo intervenire sulla scuola per modificare, cambiare, introdurre, innovare tra virgolette, una sorta di sindrome dell'innovazione, di malattia dell'innovazione che ci sta impedendo di innovare realmente, è proprio la mancanza di un'idea generale, che all'interno della quale tutti questi cambiamenti, tutte queste riforme si inseriscono per dipingere un quadro, un'immagine, un'idea appunto di scuola. Sono due libri dal taglio diverso, quello di Baldaci che è un pedagogista, è un storico anche della pedagogia, è interessante perché fa anche un po' una storia delle idee di scuola del nostro paese dall'unità in poi per denunciare quello che stavo dicendo, cioè che manca adesso in tutti questi interventi una vera e propria idea di scuola, buona o cattiva che sia, anche se appunto la riforma si chiama la buona scuola, Baldaci è molto critico. Taglia gambe che si muove invece nell'ambito della didattica per le competenze, nell'ambito del costruttivismo sociale, nell'ambito dell'ambiente di apprendimento inteso come ambiente fisico e anche come ambiente online, è molto interessante però è molto impegnativo perché poi Taglia gambe mette a frutto tutta quella che è la tradizione di quasi tutta la storia della filosofia e della pedagogia, per anche lui arrivare alla stessa conclusione. Manca un'idea, manca un'idea che funga da connettivo, che tenga insieme in modo coerente e sistemico tutte queste innovazioni, reali o presunte che siano. E infine un libro molto bello, guardate sono tutti e tre abbastanza impegnativi, infatti li dovrò rileggere, di Maragliano Pirelli, Maragliano è stato uno dei primi in Italia, che è un ricordo di forse il primo, che si è reso conto delle potenzialità, anche delle criticità, dei problemi che le nuove tecnologie, come vengono definite, le ICT, i TIC, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ponevano e avrebbero posto. Questa storia della pedagogia dei media, anzi chiedo scusa, nei media, è interessante proprio per quel nei, perché appunto i due studiano, Pirelli e Maragliano, la storia dei media, dall'oralità alla chirografia, la scrittura a mano, è quello che questo comporta sul piano della formazione e del sapere e dell'apprendimento. E sottolineano che il loro libro, sentire la storia di pedagogia, non dei media, ma nei media, perché i media veicolano una certa immagine del mondo, veicolano una certa logica, veicolano certi codici e non altri, e così via, quindi bisogna essere consapevoli di questo. Qui vi ho messo anche dei link a delle recensioni. Questi libri li conoscete già, perché ve ne ho già parlato, e li avete anche già in altre presentazioni, anche ve ne ho fornito, anzi ve ne ho fornito anche altri di titoli, e quindi veniamo a concludere questa digressione. Che fare dunque? Le famigerate e famose competenze del ventunesimo secolo, ormai esistono migliaia di articoli, tassonomie, classificazioni di queste competenze che tutti quanti cerchiamo di immaginarci, ma alla fin fine quello che conta è il pensiero critico, il pensiero creativo. Ragione, narrazione, o ragione narrativa se volete, ragione logica, come diceva Brunner, la ragione paradigmatica, il pensiero narrativo. Bene, il mio consiglio, quello che ho cercato di suggerire, partendo non dalla mia conoscenza della verità che non ho, ma dalla mia esperienza personale, è fate da voi, ma fate in modo di collaborare con gli altri, per esempio andate a vedere i gruppi su Facebook dei docenti, seguite quelli che vi possono interessare, abbandonate quelli dove ci sono magari inutili e sterili polemiche, seguite, sceglietevi bene i vostri maestri, e cercate pian piano, cominciando da piccoli passi, perché come diceva Lao Tseo Lao Tzu, anche il più grande viaggio comincia con un solo passo, e quindi cominciando anche da piccole cose e a piccoli passi, a intraprendere un percorso graduale, magari usando una piccola applicazione, se funziona, usandone una più complessa, coinvolgendo gli studenti, e avendo sempre come riferimento 4-5 maestri, come li chiamo io, come li ho chiamati, cioè blog o canali YouTube che vi siete scelti, cambiandoli quando non vi soddisfano più, e così via. Il principio è quello appunto dell'intelligenza collettiva, in cui ciascuno dà secondo le sue capacità e ciascuno riceve, per tornare alla massima degli atti degli apostoli, ma anche di Marx, e ciascuno riceve secondo le sue esigenze. Bene, spero che questo video vi possa essere utile, e comunque vi saluto e vi auguro tutto il bene possibile. Arrivederci!